Guido Guidesi, il governo Letta che cosa intende fare per quanto riguarda l'Imo? È una bella domanda. Oggi siamo al punto dove eravamo cinque mesi fa con il PDL che chiede l'abolizione dell'Imo sull'abitazione principale. Noi siamo d'accordo. Un decreto del governo fatto che stabilisce l'abolizione dell'abitazione principale. Oggi che questo decreto arriva in commissione, il PD presenta degli emendamenti per ristabilire l'Imo sull'abitazione principale per alcune fasce di reddito e per alcune abitazioni. La Lega Nord invece che cosa intende fare? Noi siamo per l'abolizione completa, ovviamente, per quanto riguarda l'abitazione principale. I motivi sono tanti, principalmente il fatto che noi riteniamo l'abitazione principale un diritto, il secondo motivo è la coerenza che da sempre dimostriamo in riferimento all'abolizione che avevamo fatto noi sull'ICI quando eravamo al governo e il terzo motivo, dati confermati dall'Agenzia dell'entrata ultimamente, che il catastro al nord funziona, al sud no, per cui quella è un'imposta che paghiamo solo noi al nord.